Ciao a tutti ragazzi, qui è BlueLight e benvenuti oggi in questo nuovo video, oggi sono qui in questo nuovo episodio di Clash of Clans Allora ragazzi, anche questa settimana Clash of Clans di domenica, io non so perché quando devo registrare questo gioco succede sempre qualcosa Allora, questa volta non mi funzionava FRAPS per registrare, infatti registravo il video Quando poi andavo a chiudere FRAPS per poi vedere il video che avevo registrato, il file che aveva creato non si vedeva Però per adesso, cioè in teoria questo video uscirà e quindi in teoria FRAPS ha funzionato, quindi GG Ok, perfetto, ce la possiamo fare, ce la possiamo fare Allora ragazzi, dalla scorsa settimana ho fatto un po' di cose, infatti come vedete ho 3 mortai al 7 e uno tra 6 ore e 5 minuti sta arrivando Poi un giorno fa ho messo il primo arco X a livello 2, pagato 5 milioni, un bordello Poi è finita la trivella di nero al 5, quindi ho 2 trivelle di elisir nero al 5 e poi oggi ho messo a fare la cura al 6 4 milioni e 800 mila Poi, da qualche giorno, mi sa 1 o 2 giorni fa, Clash of Clans ha fatto 3 anni e quindi ci ha regalato il potenziamento degli estrattori e delle miniere con una sola gemma Quindi una cosa molto epica, perché ci danno oro e elisir raddoppiati, quindi GG per loro E questo durerà fino al 7 di agosto, quindi possiamo davvero prendere tante risorse, dato che io sono nel pieno del municipio al 9, quindi mi aiuta molto questo Poi, sono a 50 mila con l'elisir nero E dato che in questi 2 giorni con le trivelle migliorate, ne ho fatto davvero tanto di elisir nero Sto pensando di portare la regina al 6 perché poi, intanto ho altri 6 giorni per fare elisir perché poi appunto vorrei fare o la strega O le strega al 2 o i golem al 4, quindi in teoria in 6 giorni forse, però mi ci devo chiudere tanto No, no, non ce la faccio, no, la regina non la metto al 6 Facciamo così, 50 mila, appena arrivo facciamo 80 mila, si faccio subito i golem al 4 perché sono davvero potenti Quindi per i gowipe e i gowiwi servono molto Ora, 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 siamo anche a 1.400.000 di oro, quindi non possiamo migliorare nessuna delle nostre difese perché adesso costano tutti un bordello Questa 4.320.000, i cannoni 3.000.000, le tesle 3.500.000 e quindi ci facciamo un attacchetto, anzi 2, per trovare qualche tizio in attivo Quindi ci vediamo tra poco Attenzione ragazzi, ho appena smesso di registrare ed è proprio il primo avversario che ho trovato 218.000 di elisir, 160.000... ops, ho sbagliato 218.000 di oro, 160.000 di elisir in attivo E prendiamo, c'è proprio il primo avversario, grazie Così mi ha fatto risparmiare un po' di tempo GG, buono Ok, quindi prendiamoci queste risorse, qua C'ha tutte le difese qua intorno, però Che le prendiamo lo stesso Allora Qua manca delle elisir, qua ci sono Due miniere e qua c'è un'altra miniere ancora, quindi prendiamo prima questa Perfetto, adesso andiamo pure su questa E su questo lato Mettiamo altri arcieri Di prepotenza Vai così, vediamo se riusciamo a fare anche il 50% Si, distruggo questo, questo E' fatto Ok Vai, presa l'ultima miniera Ah no, ecco ce n'è un altro, non l'avevo vista E quindi prendiamo anche questo 8.000 di oro che sta qua dentro Perfetto, ho preso tutto 55% Possiamo anche quittare Grazie Ci vediamo un altro giorno magari Va bene? Grazie Ok, prendiamo le risorse Facciamo altri arcieri Così attacchiamo anche un altro tizio inattivo Ok ragazzi, secondo inattivo di oggi Cioè davvero, così proprio Cadono A pennello proprio Andiamo tutto intorno al villaggio con i nostri arcieri Uccidiamo pure il re barbaro qua sotto Vediamo un po' Non ho visto nemmeno quant'era Ho letto tipo 250.000 Mi sa Può essere Nemmeno ho visto bene Allora, il re barbaro è appena esploso Poi prendiamo questa miniera Perfetto Estrattore, ok Qua ci sono due miniere E un estrattore di elisir Ancora è vivo sto mortaio Poi esplode Grazie E poi c'è l'estrattore là sopra Elisir nero ce n'ha solo 109 Quindi è inutile arrivare anche alla trivella di nero là sopra Ok, perfetto 53% Quindi possiamo anche Quittare da questo attacco Quindi abbiamo preso 255.000 di oro 232.000 di elisir E 107 di elisir nero Buono Buono, buono, buono Quindi siamo arrivati a Quasi 2.000.000 di oro E a 1.000.000 di elisir Bene Quasi quasi Continuo ad attaccare Perché sembra Che ci siano Un sacco di inattivi In questo periodo Quindi Io vi dico Che Per questo episodio Di Clash of Clans È tutto Spero vi sia piaciuto Vi ricordo Lasciate un mi piace Di commentare Di condividere questo video Inoltre La pagina facebook È in descrizione Il sito web È in descrizione Instant gaming È in descrizione Quindi Ciao a tutti da Blue Light Ciao a tutti